Ultima chiamata per il petrochimico siracusano, uno dei più grandi insediamenti industriali d'Europa e rappresentato sicuramente dal Recovery Fund. L'occasione per curare le ferite di 60 anni di devastazione che hanno causato grave inquinamento delle falde, del sottosuolo, del mare, ma soprattutto che hanno causato gravi danni alla salute delle persone con tanti morti e malattie tumorali, ma soprattutto hanno colpito anche i più piccini. Quindi serve una grande campagna di bonifiche, mettere in campo tutte le tecnologie possibili per ridurre al minimo l'inquinamento degli impianti esistenti, riconvertire tutti gli impianti che è possibile riconvertire e soprattutto programmare un futuro green impiantando solo impianti con impatto ambientale zero.